Entra a far parte della nostra famiglia, guadagna con noi, guadagna con Amazon Ufficio di Amazon, buongiorno Eh, buongiorno, ho ricevuto questa chiamata sul mio telefono Vorrei sapere maggiori informazioni a riguardo perché non sono interessato in realtà Non sei interessato? No, però ho ricevuto... Hai scoperto la guerra? Eh? Hai esplosato il centralino? Stanno arrivando? Salve signora, già ho un giacimento petrolifero in testa su cui investire La ringrazio Diventi cliente investitore Registrati ora e approfittando fino a 1000 euro di bonus Premi il tasto 1 e uno dei nostri operatori ti risponderà per fare la guida Pronto? Eh, salve, sono stato chiamato da questo numero Sì, non so, sei potuto un po' sentire la segreteria telefonica? Cosa diceva? Eh, sì, no, in realtà mi sono stato chiamato più volte in tanti giorni Se è possibile cancellare il numero Perché? Eh, non mi interessa Ah, ma conosci un po' l'argomento? Eh, sì, sì, no, eh... Eh, sì, conosco Ah, ok Ok Non dovresti dire ok in queste chiamate Questa è la cosa che mi dice mia madre, Ams Ma io non c'è credo che se dici sì Secondo voi rispondere sì ad una chiamata? Allora hai firmato tutti i contratti Ma io ho detto sì, ok, a cosa? Sì, lo registrano e lo rieditano per i contratti Ma metti caso che succeda una cosa del genere E io in qualche modo riesco a sbangarla E a dimostrare che io non ho mai fatto una roba del genere E gli faccio causa Quanto mi devono risarci di danni? E poi c'era live, è vero C'è il VOD Cazzo, ma siete dei geni?